Saranno 84 i comuni della campagna chiamate alle urne i prossimi 14 e 15 maggio di cui 19 che contano oltre 15 mila abitanti potrebbero tornare al voto per il turno di ballottaggio. A stabilirlo il Consiglio dei Ministri che decise le date fa così entrare nel vivo le campagne elettorali che già si preannunciano a vincenti e serrate in diversi comuni della regione. Le elezioni amministrative coinvolgeranno tra gli altri i comuni di Maddaloni e Marcianise nel Casertano, Palma Campania e Torre del Greco in provincia di Napoli, Sant'Angelo dei Lombardi nella Vellinese e ben 20 comuni della provincia di Salerno, vale a dire Acquara, Atena Lucana, Campagna, Castelcivita, Giungano, Laviano, Monte Corvino Rovella, Novivelia, Ogliastro Cilento, Olevano sul Tusciano, Pellezzano, Perito, Ponte Cagnano Faiano, Rocca Gloriosa, Romagnano al Monte, San Gregorio Magno, San Mango Piemonte, Scafati e Scala. Di questi quelli che superano i 15.000 abitanti e che dunque rischiano di tornare alle urne il 28 e il 29 maggio per il secondo turno sono Campagna, Ponte Cagnano Faiano e Scafati, uno dei comuni campani in cui il rinnovo degli amministratori non era previsto per quest'anno ma è dovuto alla sfiducia data al primo cittadino Cristoforo Salvati.